L'intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata del lunedì 17 aprile, poco prima delle 18, in via Molino a Bairo. Un capriolo è caduto nel canale di Caluso, nei pressi del Molino, e non riusciva più ad uscire. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Ivrea e di Rivarolo Canavese. Il gestore della centrale agito in remoto per mettere in sicurezza al gridatore, permettendo così ai Vigili del Fuoco di recuperare il capriolo, che sano e salvo è stato rimesso in libertà nei boschi.